Aspetto. Alloggio. Muscoloso forte non grasso. Testa. Una piccola testa con un mento forte. Gli zigomi sono alquanto spigolosi. Orecchie. È richiesto un atterraggio alto di grandi orecchie. Le nappe sono desiderabili ma non obbligatorie. Occhi. La forma degli occhi in questi gatti è a mandorla, gli occhi sono dorati o di colore verdastro. Estremità. Gli arti e le zampe sono fortemente sviluppati, le zampe sono spesse. La coda dovrebbe essere tre quarti della lunghezza di tutto il corpo. Lana. Denso, denso. Colore. È consentito ai gatti della razza causi e avere solo tre tipi di colore. Nero, oltre che spuntato. Argento e tabi. Il più prezioso è considerato il tabi blattiched o il silver ticket tabi, la principale lana nera con punte grigie, argento. Questo colore è il più vicino a quello di un gatto selvatico della giungla. Secondo gli standard moderni del programma di allevamento, è consentito incrociare i causi e con la razza abissina o gatti europei a pelo corto di colori selvatici e spuntati. La razza del gatto causi è suddivisa in tipi ibridi, che sono contrassegnati dalla lettera F e mostrano la percentuale di sangue selvatico nell'animale. Inoltre, il certificato del gatto contiene le lettere A, B e C. Uno dei partner di accoppiamento, è un gatto di razza abissina o europea a pelo corto. I primi ibridi gatto della foresta barra gatto domestico potrebbero essere nati in Egitto diverse migliaia di anni fa. Il gatto della giungla, è originario di una vasta regione che abbraccia il sud-est asiatico, l'India e il Medio Oriente. Per la maggior parte, è un gatto selvatico asiatico che vive vicino a fiumi e laghi. Ma questa specie vive in una piccola area del Nord Africa. Il delta del Nilo. È noto che gli antichi egizi tenevano i gatti domestici come animali domestici. Molte mummie di gatti domestici sono state trovate sepolte nei templi egizi. Ciò che non è così noto è che un altro tipo di gatto a volte sopravvive dopo la morte per mummificazione, era un gatto della giungla. Causie non è timido, sono noti per stabilirsi in edifici abbandonati e vivere felici sui canali di irrigazione e sui fiumi selvaggi, a condizione che ci sia un posto dove cacciare. In questo video userò entrambe le pronunce della razza del gatto. Causie o Causie. Diverse persone hanno sperimentato l'allevamento di usi alla fine degli anni 60 e 70. Il loro obiettivo era fornire un'alternativa ragionevole ai gatti non domestici come animali domestici. Tuttavia, la Causie, o Causie, non è iniziata davvero fino agli anni 90, quando un gruppo speciale di allevatori, ha chiamato la razza Causie, dopo felice Caus, e ha sviluppato un programma di allevamento pianificato e obiettivi. Status Talclad Tica nel 1995 la razza ha attraversato il percorso di formazione e registrazione da maggio 2001 ad aprile 2013, ed è diventata l'ultima razza del campionato Tica il primo maggio 2013. Ora i cose sono allevati sia in Nord America che in Europa nella World Cup Federation. Tratti distintivi del carattere. Attualmente, la maggior parte dei veri Causie prodotti sono gatti di ultima generazione con un temperamento completamente domestico. I loro certificati di registrazione al Clad Tica di solito indicano che appartengono alla generazione COSBT, il che significa quasi sempre che sono quattro o più generazioni superiori al gatto della giungla. Nei casi in cui appartengono alla generazione A o B, di solito è perché sono stati recentemente incrociati con un'altra razza domestica per migliorare alcuni tratti estetici, ma tuttavia i gatti sono più di quattro generazioni superiori ai loro antenati. Sebbene gli incroci ufficiali accettabili per il Causie durante il primo sviluppo della razza, fossero l'abissino e il domestico a pelo corto, in pratica si poteva usare qualsiasi incrocio puramente domestico. Le regole Tica prescrivevano solo che i gatti dovesero essere un certo numero di generazioni rimosse dagli antenati della giungla felina e avere tre generazioni di antenati Causie registrati per poter competere alle mostre. Di conseguenza, una varietà di razze è stata utilizzata per sviluppare la razza Causie. Questo ha dato alla razza una base genetica diversificata e sana. Poiché gli allevatori allevano gatti della giungla principalmente con razze intelligenti e socievoli come l'abissiniana e l'oriental short-air, anche i Causie sono gatti intelligenti, attivi e atletici. Sono spesso molto occupati come i gattini. In età adulta, sono più tranquilli, ma allo stesso tempo rimangono giocosi e curiosi per tutta la vita. A Causie non piace stare da solo, hanno bisogno di avere altri gatti come compagni o di trascorrere la maggior parte del loro tempo con le persone. Causie va d'accordo anche con i cani, soprattutto se allevati insieme. Inoltre, Causie forma legami profondi con le persone. Possono avere difficoltà ad adattarsi ai nuovi ospiti in età avanzata. Salute. Come tutte le razze parentali ibride non addomesticate, alcuni Causie possono ereditare tratti intestinali simili a quelli degli antenati non addomesticati. Il tratto intestinale può essere leggermente più corto di quello di un gatto domestico tradizionale. Si ritiene che gli intestini più corti siano meno capaci di elaborare ingredienti di origine vegetale. Questo include tutti i cereali, così come le verdure, le erbe e le spezie. Questi ingredienti possono agire come fattori scatenanti per l'infiammazione intestinale cronica e infine portare a malattie infiammatorie croniche intestinali, che sono esacerbate da più allergie proteiche nel cibo per gatti commerciale. Indipendentemente dal motivo, Causie è davvero incline a sviluppare allergie alimentari. Per evitare ciò, gli allevatori consigliano ai proprietari di Causie di nutrire i loro gatti solo con cibo per gatti commerciale di altissima qualità contenente il minor numero possibile di ingredienti a base di piante o consigliano di nutrire carne cruda o cotta fatta in casa con additivi appropriati. Se nutrito con una dieta casalinga, dovrebbe essere cucinato correttamente perché la carne stessa non contiene tutti i nutrienti di cui ha bisogno Causie. Prezzo e come acquistare correttamente. I piccoli gattini Cougar sono un vero tesoro. Il costo di un tale individuo può variare da 1000 a 2500 dollari USA, a seconda del pedigree, del colore, dell'età. Si consiglia di acquistare gattini in asili nido speciali. Cosa cercare quando si acquista un gattino? Aspetto, conformità agli standard. Assicurati di studiare gli standard di razza prima di partire alla ricerca del Causie di razza. Attenzione al colore. I rappresentanti di razza della razza non possono avere il colore bianco, grigio e rosso. In presenza di piccole nappe sulla punta della coda, e sulle punte delle orecchie, sono sempre dipinte di nero. È insolito che i rappresentanti di questa razza mostrino aggressività, anche nei confronti di estranei, estranei, assicurati di leggere i documenti. I gatti Causie sono semplicemente iperattivi, sono letteralmente costantemente in movimento. Gli animali si arrampicano facilmente su qualsiasi superficie, anche la più alta. Causie è una delle razze più esotiche. I gatti di questa razza hanno un colore incredibilmente bello, e un aspetto indimenticabile. Questo animale domestico è piuttosto raro, ma coloro che hanno la fortuna di diventarne il proprietario potranno apprezzare tutte le delizie della razza. Sicuramente non ti annoierai con loro. Linea di fondo. Il nome della razza deriva dal nome latino del gatto selvatico della giungla Felis Caus. I gatti di questa razza amano la compagnia e ne hanno persino bisogno, ma non amano sedersi tra le loro braccia. Sono molto mobili, attivi, giocosi. Senza paura, ottimi cacciatori. Andare d'accordo con altri animali. Sanno saltare molto in alto. Fedeli ai loro padroni. Causie è una razza grande e alta. Ha un corpo forte e muscoloso, gambe lunghe, orecchie grandi con nappe. La coda è di media lunghezza e spessore. I rappresentanti di questa razza sono eccezionalmente a pelo corto.